... 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 Allontaniamo un pochino per favore, poi ci sono allontanati dalle operazioni di sofforso c'è stata una grossa frenata? Ma c'è stata una grossa botta da dietro, la sensazione è che siamo stati tamponati Lei era seduta o in piedi? Io ero seduta, porta in avanti, però la sensazione che ho avuto è che qualcuno ci abbia tamponato Quindi lei era sul treno tamponato Lei era sul treno? Lei era sul treno? Lei è sul treno? Eeeh Lei era sul treno di più Un'altra parte di più Un'altra parte di più Un'altra parte di più Grazie